Un po' di tempo vero? C'era un po' troppo tempo Non lo so ragazzi, è da un po' che non poto dare sus tre No, ora mi diverto, volevo dire chi arriva prima Dai, vediamo chi arriva prima Uno È arrivato prima quello, quello da destra Le Paralimpiadi Come fa? Come fa da aprire una roba così grande? Cioè, non è che sono tipo porte da tipo quelle del supermercato che si aprono da sole, no? E... Oh, l'ho svegliato È colpa Ops Non sa che si è arrabbiato Sì, non è il momento di fare la maratona Ah, cavolo Questo qua picchia No Oddio, quanto l'ho scivato Ciao Dai, dai, dai Dai È troppo sgammabile Tomodino Profondità in Braille Ok Oppure professorale Profondità in Braille Cazzo non lo so Non c'è assolutamente Nulla Pfff Li passi sotto la mazza Che è una meraviglia Ti, ti liscia, ti liscia i capelli Bravo coglione Pensavo, vabbè, va giù le scale Eh, non le scale mobili Porca Mi imbraccio di nuovo Sembra se si chiama così Adesso ci basta un... No, volevo fare il colpo con scudo Però sto qua... Ah, sì, sto qua al Perry Però non gli faccio danno Peh Ah, è qua Sono sopravvissuto Per un purissimo miracolo Ora giù Ci andiamo Ci andiamo normale O ci andiamo saltando Saltando Oh Sopra la camera La camera panca sotto Vabbè Eh, sì La panca l'ho spaccata comunque Il posto per i backstab Proprio Ti ho scritto Fatemi il backstab Se no non sono contento Prova Un rap Punto da tiratore Ok Stanza vuota Braccio Ok Torniamo indietro Mi sembra Oh, santa me Cos'è sta roba? Ah, maledizione Mi fa danno la maledizione No, non fa mi gas Eh Ah, sì Mi fa il gas Maledetto Te Se mi tocca Mi maledice Se mi tocca Mi maledice Non so per quale Porca però Oh, non ci vuole nulla Ti vento E mi fa la maledizione Mi giuro che Oh, se sono riuscito Sì Zaffiro di Alderic Ah, Kirchidito Ma tipo Kirchva Noten Che è il papà di Milhaus Ti guarda Che lentezza Che prende La Pum Ma quanto Ci hai messo Stavamo a prendermi dopo Sono qua Sì, sì Sta tranquillo Ma questo è quello L'ho spinato No, se ti colpisco Prima io Tu non puoi colpirmi E mi fa danni anche se mi rotolo addosso Oh, no No, 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 no oh e crepi muoreci male spada spinata u scudo spinato o come mi tocca correre è in mezzo la credo bravo che sia la sua m se gli stai vicino all'altro piede lui non ti becca è tipo scientificamente testato hai morto e non me ne erano meno accorto cosa che mi troppa escrementi nessuno a quanto pare al posto dell'altra volta dove c'erano quegli spaghetti moventi non mi potenzio neanche perché mi fa schifo la vita totti ti 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 rompo lui mi ha preso con la telepatia è bella a vedersi ci chiamo un elmo che si trattiva sta abbastanza nessuno perché attira lui no dai no ciao 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 io non ne faccio due e sto attacco con scudo che madotte lo puoi mettere anche in banca uohai va pesa guarda quante o mi pesa solo a vedere no porca si ok che dark souls ma nel medioevo non usavano se spade spero se no chi chi è chi è che le solleva la montagna di game of thrones ma neanche lui il terzo attacco non vi giuro che non me lo aspettavo eh vabbè mi metto anch'io cosa dobbiamo lodare guarda lì con che attenzio con che attenzione con che attenzione guarda che bella che rocce tipo croce è la croce solo che ha le braccia alzate sventurato così per dire cosa che di quassette mi sembra che se ci sia il tesoro a filmatino filmatino via un po bastardone co ah è pezzi del primo gigante ah quello che ho usciso oh 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 puttana ok respawn sei un bastardo ammettilo è dove il gigante non lo so ma che fine ha fatto il gigante vado sapere maledizione ma si si è un po incazzatino ok sono tornato ho fatto ho adesso la spalla di lottrica più 4 4 4 si più 4 bene è di qua che bisogna andare non ci sono andato primo perché se non avrei rovinato tutta la quest ha bisogno andare qui e dopo camminare sul cornicione come si fa venire non lo dico qua sopra dovrebbe esserci lui quello che ci sparava gli incantesimi per non faccia generare l'estus è che il fatto anello delle profondità consente la armonizzazione di incantesimi extra dato che io non ho incantesimi e non mi interessano non capisco i suoi attacchi va bene nel dubbio lo backstabbo è morto ah no di qua dove sono arrivato ma porca ha buttato via un'altra estus non so perché ho premuto a forse per ricaricare ma ma non è il gioco adatto come in bosca da dove andiamo vedete cornicioni all'anno non è non è il luogo adà complimenti per l'istinto di sopravvivenza dov'è dov'è il tipo a no ma dai ma dai ma io mi rifiuto di crederci lo faccio cadere lo faccio cadere eh si sta lo faccio cadere ma va cagare va dai 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 giro giro tondo non si sforza neanche di venirmi a prendere guardalo non è che ci avevo il tipo magari ma ma sul serio si è tuffato di sua volontà non voglio più vivere basta io vi giuro io vi giuro che non sarei mai arrivato mai 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 ho dovuto guardare la wiki per capire dove cazzo andare che è sta shit oh mio addio resistentino e tira sul ponte ha appellato di me a pezzi quello del primo che figlio di si sono una fila fiamma soffitta grazie o qualcosa sai benissimo chi sono sei un figlio di troia sai sono tutto marzo cosa ma è stata l'arma tu c'è come dire ti ho sparato ma è stata la pistola a spararti sei un figlio di monetario giro vabbè acquista devo acquistare quella di caterina devo oppure potrei semplicemente ucciderlo altre cacche viventi o almeno penso che si creta allora devono essere pericolose queste abbiamo una e basta con sti portoni ma non potevano fare dei sì quello scorrimento perché era una bella idea invece di fare sti portoni giganti che neanche loro sono come a perli cosa c'è cos'è qua all'armatura completa di kirk cosa sei tu allora non riesco a capì non credo di aver capito allora quella roba ambigua che si muove è una parte di lei o è tipo una coperta che che ne so adesso ho preso l'armatura di catarina per questo semplicissimo motivo per questo visto qua dentro c'è sicuro c'è si guardo di di catanzaro ci sono io sì questa voce non ho parlato si ti ha annunciato l'armatura sì 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 e l'ho dovuta comprare è arrivata è arrivata come ha fatto a passare a vabbè fate che il pozzo non è così rama ok che prego esultanza me l'ha fatto di sua spontanea volontà e ora si il muto e devo evocare anche annere così posso portare avanti la serie quest chi siete ci siete e qual è il boss diaconi delle profondità vi spiego già colpite quello la che è illuminato tipo dal gesù cristo non so cosa sia quella roba rossa tipo il potere di cristo ti scaccia qualcosa di sì no ora risorse il papa mi sembra che sia il papa tipo fuso e non non riuscire voglia non mi ha preso mi ha preso non riuscirete mai a che ne so a distruggere la santa chiesa fate fuori il papa ho fatto fuori il papa peccato sono morti tutti una bambolina anima di diaconi nelle profondità voi siete stati usiti come un calzino sporco grazie ecco qua quello che vi dicevo l'armatura del del papa con una bianca la cd ancora oveste ok abbiamo ucciso il papa contenti molti no molti lo saranno ma fa niente vi lascio con questo qui la prossima volta andremo al non ve lo dico dovete scoprire da soli ci vediamo al prossimo episodio aspetta 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 con l'assa che sono stufo e ciao a tutti